Nei suoi primi otto anni di vita, la Fondazione Sacchetti ha realizzato oltre 30 interventi a favore dell'arte, della cultura, della ricerca scientifica e della solidarietà sociale, proseguendo l'opera e gli ideali condivisi da Giovanna e Giulio nella loro vita insieme. E in uno degli ultimi progetti ritroviamo la vita e lo spirito di Giulio Sacchetti. E' il presepe realizzato alla Cappella Sistina per il Natale 2021. All'interno ci sono personaggi simbolo della storia di Roma e d'Italia, Dante, Raffaello, Caravaggio, contemporanei ai primi capi famiglia della dinastia Sacchetti. All'esterno gli affreschi di Michelangelo, forse la testimonianza più iconica della storia dell'arte occidentale. Qui, sotto la volta, vengono eletti i papi da oltre cinque secoli, uno scrigno di bellezza che rievoca anche la maggiore impresa di Giulio Sacchetti, quel restauro senza pari che lui portò avanti durante i suoi anni in Vaticano. La Sistina l'ho vissuta, sono salita su quelle impalcature non so quante volte, per cui per me la Sistina rappresenta molto. L'idea di mettere un presepe dentro la Cappella Sistina e dedicarlo a Giulio, mi sembrava una cosa fantastica. Noi ce lo ricordiamo in vita, presente sul ponteggio, ma ogni volta che andiamo in Cappella Sistina lo sentiamo presente e oggi questo presepe segna la continuità spirituale che tutto il mondo dell'arte deve a Giulio Sacchetti. Grazie.